Affrontiamo degli avversari forti, non si può pensare di poter sottomettere tutti, dobbiamo riuscire ad essere bravi, a sapere esprimere le nostre qualità, sapendo che di fronte sempre affrontiamo degli avversari che vogliono fare lo stesso, quindi delle volte sono più bravi loro a dimostrarlo, altre volte lo siamo noi. La nostra voglia di voler fare la partita è sempre la stessa, poi quando gli avversari ce lo permettono riusciamo a farlo, quando gli avversari non ce lo permettono dobbiamo essere bravi a saper fare quello che gli avversari ci stanno permettendo di fare. È importante tappa dopo tappa sapere andare avanti, come abbiamo detto più di una volta, è importante la continuità in questo campionato, è quella che noi stiamo cercando di trovare, perché non ne abbiamo avuta tanta, siamo stati in grado di vincere diverse partite, però di perderne anche qualcuna di troppo, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare ad andare avanti, accumulare più punti possibili per poi, poco prima della fine del campionato, scoprire dove ci troviamo e puntare dritti in avanti. Questa deve essere la partita del Bari, perché tutti insieme dobbiamo essere in grado di fare un ulteriore sforzo per poi essere bravi a saper recuperare durante questa lunga sosta. Sappiamo che è una partita difficilissima, perché nelle ultime cinque giornate questa squadra è stata in grado di affrontare avversari di livello e mettere in difficoltà tutti, ottenendo anche diversi risultati, quindi navigano sulle onde dell'entusiasmo, sono in salute, è una squadra forte, fisica, che ha grandi qualità e noi però dobbiamo essere bravi a saperli limitare, esaltando quelle che sono le nostre qualità, perché anche noi pensiamo di averne. Arriviamo giusti a 20 giocatori di movimento con tre portieri. E quello che ho detto poco fa ai ragazzi è che tutti dobbiamo sentirci nella possibilità di poter iniziare la gara per farlo al massimo delle nostre possibilità e mettere un ulteriore tassello a quello che è un percorso importante che stiamo facendo. Sono contento di quello che sto facendo, del mio percorso, perché alla base la mia contentezza non deriva dal fatto di ottenere o meno risultati, di fare quello che mi piace fare e di farlo al massimo come lo provo a fare ogni giorno, quindi per me quella è la grande contentezza che ho.